Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Per la vicenda del bimbo morto per una gravissima infezione sviluppata da un otite curata con l'omeopatia, la Procura di Ancona chiede una condanna a 4 anni per il medico omeopata Massimiliano Mecozzi, 60 anni, pesarese. Il caso è quello di Francesco Bonifazi di Cagli, morto a soli 7 anni il 27 maggio del 2017 per un otite batterica bilaterale trattata con cure omeopatiche. Il minore spiro all'ospedale Salesi di Ancona, dove era arrivato tre giorni prima in gravi condizioni. La richiesta di condanna è stata formulata ieri pomeriggio dal pubblico ministero Daniele Paci nel processo che si sta svolgendo al tribunale di Ancona a carico dell'omeopata e che è arrivato alla fase finale. Ora si è aperta formalmente la discussione delle parti. Dopo la deposizione di un atto da parte dell'avvocato Corrado Canafoglia, che rappresenta l'Unione Consumatori, parte civile nel procedimento, sono seguite alcune obiezioni da parte della difesa di Mecozzi, rappresentata dall'avvocato Fabio Palazzo. L'udienza è poi proseguita con la requisitoria della Procura e la ringa della difesa. La giudice Francesca Pizzi ha rinviato al 4 novembre prossimo per le repliche la sentenza. In aula, con gli avvocati Federica Mancinelli e Daniela Gori, c'erano i familiari del bambino, la mamma e il nonno materno Maurizio Livieri. Solo lui si è costituito parte civile insieme allo zio del bimbo. cinco novembre prossimo per le repliche il via Cezannelli, in aula dellaватica Cher pianica Pizzi, 50 30 11' mobile nell'avvocato e realizzata functionale delle parti...